Oh mio dio, si vedono tutte le mie dati! Spruzzo spruzzo! Mi ha dato la connella e la magliettina Nooo! La giacchettina C'ho 3000 codici 3000 codici? Ma è la tenza cosa! E' un gioco di merda, ecco Oh ma non vedo nessuno No, ma che vedi nessuno, guarda a destra Oh la madonna Però è bello che stanno andando tutti a destra Qua al lato sinistro non c'è nessuno Vanno tutti ai palazzi Ottimo C'è uno dentro eh, sta attento c'è uno Spruzzo Uh, sta qui E' uscito fuori E' fuori da me, è fuori da me Sì sì, vieni 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 Ti porto da lui, ti porto da lui, lo sto inseguendo Ok ecco vai 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 E' entrato è entrato Ammazza ammazza Prima che trova l'arma questo Eh mi lagga Ah miseria Vado come lagga Ah regà lagga Madonna se lagga raga Ma c'era un SKS qua L'avete ucciso a quello? Sì 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 Che aveva trovato il tizio? Niente Guardami come sono bella Ma quanto lagga? Ma perché? Ah io a quello lo vedevo tipo che faceva il moonwalk Ma lo sistemeranno? Eh buh Non lo so Calcolo che il gioco è uscito dall'early access Ma ha ancora gli stessi problemi dell'early access Dove andiamo? Eh buh Io vado ai magazzini grossi di qua Bravo Il gioco è proprio buggato Da quanto tempo ci giochi? Inferno C'è pure un altro ieri tanto Non so se hai notato adesso nella partita Ho visto come ci laggava Cioè non riusciamo a piare a quello Stare attenti qui C'è il casco livello 2 Prendi prendi ce l'hai il medikit? Oh Dove sei andato? Vabbè Ando io Ti piace un casino? Eh Mi piace a tutti sto gioco Non si capisce il perché Praticamente perché è stato venduto 15 milioni di copie Non vi rendete conto? 15 milioni L'hai preso due giorni fa Eh Calcola che tu stai vedendo il gioco nuovo Diciamo Decisamente No Decisamente Migliore rispetto a com'era Io Come Alemau per esempio Che ci gioca dall'inizio Oppure io da agosto Fide di era Ma quanto? Era qualcosa di Io da apro 10 ore 10 ore C'era veramente C'era veramente Rosceno Prima Ma io siamo in safe Comunque Che culo Qualcuno ha dei 7.62 con SKS Regà andiamo ai buchi Li ai buchi e ai bunker Ai buchi Ma andiamo a ammazzare questi no? Te lo sei fatta tutto questa torretta? Ma cosa ho sta macchina? Che fai? Eh andiamo qui laggiù no? Qui me lo so fatto tutto Secondo me no Spostate Sì sì C'erano colpi di scharelle Mi sa che c'è una scharelle mi so Mi puoi dare qualche 556 o 7.62? Eh ne ho 45 Meno male che ci hai fatto qua eh Ho trovato i penkiller Poi Ah sopra no Altro boost Cioè non hai dei 556 o dei 7.62 che non usi? Eh ne ho 45 di 7.62 Che adesso ho messo le extended C'è la macchina la vedi? Sì sì la vedo Stanno andando ai bunker Sì Andiamo? Eh adesso senza colpi Io c'ho 30-30 Se vuoi? Vabbè prendo questa Poi lo... Vogliamo andare quindi? La cosa che hanno messo che può entrare dalle finestre ci sta un sacco Eh calcola per esempio Vedi uno come noi Prima non ce l'avevamo questa cosa qui E anche che saltassi i muri Cioè renditi buono E' lui Chi? Quello della macchina del bunker Eh sì sì C'è una sinistra C'è una sinistra nei missili di lì sai? Ah sì sì lo vedo lo vedo Ok quelli stanno andando via No stanno andando via No stanno andando via il bunker di test Ok quello sta avvenendo verso qui eh Ok io piglio quello del... No sta lì sta lì sta lì Non ci credo Grazie Da dove? Ah Hai sparato te? Qua si muove Adesso cerco di farlo fuori io Se non mi investe Vediamo se fa manovre veloci Dai che arrivo 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 pure io Adesso lo becco Ah Arrivo arrivo Morto Bello 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 Era solo uno? Era solo uno? Sì Qua c'aveva l'SKS comunque Eh prendete prendete Ma io già ce l'ho l'SKS Oh Ah siete Quella cosa di... Il climbing si chiama Il vaulting Per scendere Cioè guarda è stata una manna che... Noi giocatori Diciamo Più veterani Andiamo? La chiedevamo a gran voce La vendiamo Ordine tipo tempo Ma che vuol dire? Cazzo ne so Che è sto ordine tipo tempo? Sektor ma anche agli inizi La patata di guarire da proiettli Sì sì Sempre Prendiamo che c'è la macchina dai Prendiamo che c'è la macchina dai Eh? Così si fa a drifting Vai No dai No dai Dove stai andando? Dove vai? Le case è qua Avete detto le case fuori Eh no qua Oh cazzo Che incidente Mi sparano Ah Ma sei tu? Sì questo è quello di prima Ma dalla distanza media Dalla distanza Media distanza Come si fa a colpire? Bisogna trattenere il respiro? Sì Se tratteni il respiro Sì colpisci Chiaramente meglio Col tasto shift O maiusco Non so come c'è la tastiera tu Messa Da fermo Devi tendere sempre E se sfari da lontano Fidati E mettiti Come si dici Non è abbassata In ginocchio Sai come si ti metti in ginocchio? Mh O il control No col C fate voi Ordine per tipo tempo Ah Oddio questa cosa Non l'avevo letta Oddio Che oscenità Che oscenità della traduzione Ordine per tipo tempo Penso che dovrebbe essere Ordine per Diciamo da quanto l'hai raccolto Cosa hai raccolto per prima Hai capito? Penso E che fuori lì c'è un'altra macchina Ma cos'è? Ce ne abbiamo 300 macchine E' uno scenità allucinante C'è il Rad 1 c'è Raga ma vendite le macchine qui Concessionaria Concessionaria Vivi Sector Vivi Sector Twitch Compra la tua Questa è la moto A le mano Ok Dai andiamo Io ho fatto quello L'ho dato Si serve anche per correre Shift Aspetta Che fai C'è non lo so Quante macchine Parcheggiali qua Parcheggiali lì Proprio giusto giusto Vai Dove? Accanto? Vicina? Si si ma con la fronte verso la stessa cosa della moto Mi metto a sinistra io Ordine per tipo e quantità Esatto Penso Si Penso Non me lo ricordo in inglese come stava scritto Prende l'altra Dacia vado a presa Però Mi metti in fianco l'altra Dacia Così a scelta di colore Bellissimo Guarda Ma viene Ma viene la gente li massacra Esatto E li facciamo fuori se viene la gente Vorone Piano Figo ha spaccato un po' la macchina Mi sai Shift Se lo tieni i piedi Prendiamo avuto a correre Così Da lontano Così da vicino Q ed E ti sposti il lato Vedi Q E Q Sposti il lato Qui Ho una Chiusa Qui ho una Questa è un modello abbastanza bello Che c'ha il tetto panoramico Che ti prendi l'aria nei capelli Questa qua ti faccio vedere Benvenuti su BB sector twitch Questa è una vendita di macchine Usate Questa si chiama Alfa Romeo Dacia Extreme No Sai che sono un po' attaccate Sai che l'hai graffiata la vernice Chi è questo cornuto che ha parcheggiato così le macchine Scendi Scendi o compratelo Ti scala dello stipendio Ti scala dello stipendio Ti scala dello stipendio No ma se ne va E se lascio questa granata qua adesso Ma andiamo al loot Venite venite Vediamo se faccio in tempo Vediamo Allora No facciamo così Mettiamo questa un po' più attaccata Io vado eh Vai vai Ah il loot è troppo lontano ragazzi Inizia da me Andiamo in safe Andiamo in safe Alle case fuori Military Metti un punto Inizia da me Sto morendo Ah corri Shift attiene pure il respiro quando spari Spari mirando No non devi Cioè si Sottiene si Però non devi cammin- Oddio Però non devi correre quando miri Cioè non ti devi muovere Se ti abbassi come ti ho detto hai più precisione Oh macchina in mezza strada Si è fermata Si è fermata sono scesi Si l'ho visto lontano però Si si Brutto Eh ma ti stanno mirando mi sa eh Ok l'hai preso Adesso gli buco le gomme Ciao Fabio Top Buonasera Sai come si mettono gli FPS eh? Impostazioni Steam Ehm allora aspetta Steam Impostazioni Interfaccia No In gioco Contatore in gioco degli FPS Ah l'ho visto l'ho visto Falle Sta correndo via? Dietro l'albero è andato Mi servirebbe un mirino Che facciamo? Li lasciamo? Io ho bucato le due macchine loro Guardalo che trollino guardalo Andiamo va Che risate che si è fatto? Ma li lasciamo Li lasciamo nel senso Andiamo lì con la macchina? Si è andato con la moto Trova la moto andava Non ho bucato non si dice Bucarla come Vai Questa è nata mega stronzata eh Ma perché vai con la moto? Questa vale T'è quello la in moto T'è quello la Adesso arrivo La mia è più veloce Adesso lo becco io Se non si ferma Se si ferma sono morto Attenzione ti supero Ti supero Noo Noo Bastardo Io ho anni di Demolition Razer alle spalle Ma le mano sul ponte si è buttata Proprio a cazzo duro Vai 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 Suona il crack Sono sul ponte Ecco sono a sparare sul ponte Oh c'è l'idea troll Te lo tiro sotto Te lo tiro sotto Ok è morto Ho messo sotto uno Io con la moto Ihihihi Ihihihi Naaaaaaa Cos'è? Io mi sto sotto uno con la moto Vada la prima ti butta sotto e te li tutto Guarda che porca Non l'ho fatto apposta scusa Ho preso solo un po' di colpi Per la Cappa Ho bisogno dei medics Io ce l'ho ai melee, questo ce l'ha Qua c'è, qua c'è Sta qua, sta qua, sta qua Guarda che si prende il 4x, che infame Gli dammi il 4x, cazzo Vediamo se non arriva qualcuno Serve Ma questi non stanno nella barca? No eh? Ma vai, sono morti subito No Scusa, non te ho, cioè nel senso che te ho La risata mi fa sfisciare pure a me Raga qua ci sta un SKS con tanti colpi Non lo voglio, no No, ce l'ho l'SKS già Oh, qua sta un silenziatore R Ce l'ho già Tu ce l'hai Alemau? Eh scusami Ce l'ha questo Questo ce l'ho E com'è che non l'ho visto? Che sei un ciecato sei Ah, eccolo qua Che parte di Napoli sono? Io sono di Scafati, in provincia di Salerno, vicino Pompei Prendi la macchina e io vado in moto Come si ruota la telecamera mentre la corsa automatica? Tieni premuto alt e ti giri col mouse Che cos'è? Tutorial dal vivo proprio? Guarda che costa al minuto La teniamo per la fuga No, cosa succede? Allora la muoto la teniamo Per il car avete qualcosa? Un bullet loops? No Io non ho neanche i mirini Ho la SKS No raga Quella l'avevo messo per la fuga Che cazzo fai? Ma si ma si Oh! Dimmi tu come facciamo a fuggire in tre in una moto da due Eh vabbè C'era tanta gente però lì Devono venire qui All'inizio del ponte c'era un buggy però Vado a vedere di qua se c'è un'auto per andarci Si ma tanto siamo a fianco la safe Ah ma quindi non andiamo più in macchina? Magari no, magari si Non credo che arrivi Questa partita l'abbiamo presa un po' scialda Però adesso ci ricomponiamo dai Mentre qua macchine non ce ne sono Ho avuto un investimento lì Mi hanno investito Che ho fatto report player team fire Noo! 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 È caduto giù Noo! Che ti sei spezzato pure le ginocchia È caduto giù Noo! Noo! Io l'ho sentito urlare quando vedo la soffita Un numerino che scendeva Ti sei spezzato le ginocchia Com'è fatto a cadere? Ma l'altro Ma non lo so Un altro medikit Volevo salire sopra il ponte sulle cose di ferro Pensavo che aveva ancora Ancora troppo la caduta come da GTA Oh! Vedo, vedo gente Vedo gente a est Est, est, est Est dove, dove, dove A fianco al sasso Vicino alla spiaggia lo vedi? A fianco al sasso Si la vedo, la vedo Si però col 2x non vedo un cazzo Eh ma io col 2x non vedo un cazzo Anch'io col 2x Io col 4 vediamo se lo vedo Sasso Ok No è vicino alla spiaggia proprio adesso Vedi Sta cor- sta correndo Dai L'ho breccato? Un polpo solo Dov'è? Dov'è? Vedi per esempio adesso questo qua è lontano Sta correndo, sta correndo Fabio Sì Tieni premuto Maiuscolo E spari No raga io non sparo più perchè non mi rieni Guarda che, guarda, guarda, guarda Guarda che resta giù Qua si è rimasto Qua si è rimasto sulla spiaggia Niente Eh vabbè Ecco, vieni di qua Muoviamoci Vieni di qua, vieni di qua Eh, devo risalire io sopra Dove stanno? Dal ponte non viene nessuno? Ale, a chi spari? No Ho breccato una volta A chi spari Ale? Ah, quello della barca Ah, sempre quello Sì Sali qua che andiamo a beccarlo Aspetta che vado a prendere l'altra io Pile una macchina Macchina? Sì sì, pile una macchina Sta scendendo qui, sta Eccolo li vedi nella spiaggia, è a 40? Andato Minch, ti ha beccato? Sì A chi spari, oh? A lui L'ho finito Dov'è? 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 È morto Oh, spari da sinistra Adesso vedo se riesco a prendere quel colpo Il colpo arriva sempre nel centro del mirino Sei distante dai mirari Eh no, devi alzare un po' la mira quando sei più distante Non scendere a prendere quello là C'è i bullet troops Non so che si riesce Non so che si riesce a salire poi qui O qui o è là Eccolo, eccolo la cosa, l'hai vista? Sì sì Ok Cos'è che volevo vedere per salire poi C'hai cara Io sentivo colpita qua Oh Come saliamo, scusami Oh, stanno scende qua Oh, l'ho colpito una volta Blockato Blockato Vai vai, uccidilo, uccidilo Morti tutti e tre Buono Nice Ah, erano questi che sparavano Ah, erano questi che sparavano Ma che cazzo dei ciecati stiamo beccando oggi? Ma io non lo so veramente Oh, ragazzi Se continuiamo così arriviamo silenziali Alla fine è il top Finca raga, sono fottuto Do stai? No, non riesci a salire Ah Te l'ho detto che non sali da là Aspetta Guarda la spiaggia alla tua sinistra Giù in fondo Però sta un po' Bel giù in fondo Non hanno chissà che queste Scusami Scusami Non ho visto il follow Scusami Te lo guardo appena Mi libero Dai 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 Eccomi Vai andiamo, andiamo in safe Adesso c'ho un auto pair Andiamo in safe Adesso mi serviva una messa Andiamo in macchina a piedi Ma qui dobbiamo andare in macchina Perché mi sa che dobbiamo andare Vai con la macchina con lui E io vado in moto Vieni Qui è un casino raga Dobbiamo andare sai dove? In questa montagna qui E' la migliore opzione Vai Quella montagna lì Ma la prendiamo larga la safe Sì sì ma no Fabio grazie del follow Grazie Fabio Meso proprio Painkiller si chiama No painkiller hanno tradotto bene Anti dolorifico Una cosa che hanno tradotto bene è il painkiller Anti dolorifico Mi sa che c'è gente parla montagna Eh lo so lo so No no Non andate verso il drop raga Andate a destra A destra a destra Eh no ma qua c'è gente Eh ma non c'è andare in bocca però Oh non c'è andare in bocca Questa è una torretta per caso No Venite qua in la montagna Oh oh No zio non ti ferma così Dove siete? Eh oh è la macchina che slitta Arrivo arrivo In questa montagna qualche c'è Fermati 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 Non c'è andare con tutta la macchina Fermati Ormai Ecco ce l'ho uno qui Dove dove? Qui da me Dove sta te o? Sai che sembra solo Ah ma te sei coso Benvenuto comunque Fabiotop, grazie, grazie mille del follow Ci sono altri? Sì Dove? Toggio due Bene ma Ti sento a sparare Vedi, tieni premuto alto e ti guardi intorno, vedi? Lo vedo Vieni, vieni, vivi Sto arrivando Ma come fai? Andiamo in safe? A me mi serve una cazzo di vest Ieri è rimasto una vest sana a qualcuno Alcune cose proprio da Google Traduttore, sì Alemau è brasiliano, ha detto che anche il brasiliano è tradotto di merda Sì, sì Un minuto e nove Ce l'hanno una vest sana questi Qui, 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 qui probabilmente avrà Vieni, vieni, vieni Senziatore a R questo Ma che aveva? L'M24 L'M24, c'ha quello, pigliatelo Eh, prendilo Io c'ho il caso, c'ho Eh, no, no, Mirini Ce l'ha la vest, sì Dobbiamo andare Sì, sì, sì Andiamo, andiamo, andiamo Eh, lì ci stanno le case, però Dobbiamo andare Ma se aggiriamo dietro le case Se andiamo, se andiamo da dietro le case Aspetta che mi busto No, neanche una vest al 2 integra Io l'hai sfondata e tutta Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo Eh, quelli delle case ci assicuro 100% No, guarda la macchina lì Oh, sì, 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 la vedo Questa è quella che ho lasciato io prima Seguiamo quelli? A sinistra vedo 1 a 70 Che corre? No, dov'è? Dov'è? Sei fermato Non lo vedo più So che nel sauce Oh, venite in safe Da tanto dopo vediamo loro Coprirci Ah, vedi un 4 per più in più? No No Oh, sta partita non sto capendo un cazzo E siamo arrivati alla fine Regà, 9 vivi 9-3 7 Sì, 9-3, 7 Sto scherzando Sto scherzando Oh, mio Dio Ficca, è sempre me Venga, concentrati però alla fine, dai Vi prego Concentriamoci Vi prego Adesso Sono dall'altra parte Aspetta, aspetta Vado qua, ok E da dove andiamo? Oh, è God, è God Sta posizione Già siamo in 6 Ma che God? Ce ti rendi conto che loro sono dentro le case E restano lì? Ti hai capito? Eh, sì, però Cazzo, è vero Eh, fa cagare Prova ad andare al drop io Prova ad andare al drop Per vedere se c'è una Vestal dentro Provi a morire Oh, Vestal 3 Il Grozza Pigliatalo, pigliatalo Pigliatalo, pigliatalo Pigliatalo, pigliatalo Ma che il Grozza Ti lascio il 2x Minch, è fortissimo il Grozza Da vicino è fortissimo E che fa? Eh, fa malissimo Vedi che fa Mettici il silenziatore sopra E diventi Dio con il Grozza Eh, il silenziatore non ce l'ho adesso Vai Ti lascio 5 boost se ti servono Ti servono? Vai Andiamo in safe Aspetta, ok, mi boosto Dobbiamo arrivare nei panettoni lì Io sto provando già sdraiato Ma ha tanto rinculo? No Sì Da vicino no Eh, allora fammi mettere lo scarello Ecco, già vedo uno là Cazzo, se mi vede sono fregato Mi avviso Dov'è? Da dove? Nella casa bianca Guarda come gli sei chiusa Guarda come gli sei Ah, sì, sì, sta sul palazzo Ecco, mi avviso Lo sapevo Oh, oh, cos Oh, cazzo Oh, cazzo Aspetta, 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 aspetta Che mi boosto No, ma come fanno Come fanno Stavo dietro un cispuglio Dai, che merda Stavo dietro un cispuglio E purtroppo noi non possiamo restare di Quelli lì sanno Tutti l'ha detto Sanno Sì, sì Adesso se uno mette la testa Magari lo becco Aspettate, aspettate Che gli si chiude la safe Perché devono uscire Secondo me Gli si chiude la safe Speriamo Speriamo Non pushate Occhio lì, lì dentro c'è Gli vive, stai lì Mi sono arrivato qua È un ottimo punto Magari ti vado a prendere io Tanto, tanto Guarda dove si chiude la safe È God Perché loro devono uscire Quindi camperate E appena escono Li pushate Cioè, li uccidete Vi mettete Eh no Cerca di vivere verso di me Ricky Eh, no Non ce la faccio Ti stanno a sparare Sì, sì Non ti stanno a sparare Eh, io sono morto Ancora no Eh vabbè Vado a prendere Ci provo io, dai Eh, ma sono andato io Sono andato io Stai lì, stai lì Tieni la posizione No, non c'è andato Non c'è andato Non c'è andato Non c'è andato No, no, no Non venire Stai fermo Stai fermo Stai fermo Stai uno in mezzo ai campi Stai Eh, ma io non ho boost Come non hai boost Te ne ho dati 5 prima Eh, no, no, no Ti butto dei due grandi io Le ho usate Zitti, zitti Ne ho uno qua Ragazzi, scusate se non leggo la chat Ciao, TheGamer Minchia, uno sta in mezzo ai campi Eh, davanti a me, eh Eh, sdraiato da qualche parte Sento uno vicino a me Ok, starò dentro il capannone Faccio una granata Sì, dentro il capannone Ecco, stai entrando dentro il capannone Non è entrato dentro il capannone Ok, faccio le granate dentro Non ho granate, vaffan... Vedo, vedo quello stesso nel campo Dov'è, dov'è, dov'è L'ho preso Eccolo Boom L'hai fatto L'avevo preso pure col car Adesso c'è dentro lì, eh L'avevo preso pure col car, quello Regà, sono tre vivi, regà Tre contro tre, regà Regà, devono uscire Devono uscire È uscito È lì, davanti a te Lo cato, lo cato Due kill Dietro, dietro il... Lo vedo, lo vedo, lo vedo Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Lui si è fatto mezza lobby Si è fatto 11 kill Hai capito? Eh a quante se le è fatte grazie a me Quello in mezzo ai campi l'avevo preso pure col caso Vabbè anche una partita con 11 kill Lei è vinta Questi erano convinti di vincere Oh dentro le case Cioè raga abbiamo fatto una partita Proprio del cazzeggio più totale Cioè abbiamo giocato serio Fino a mo' questa l'abbiamo cazzeggiata Abbiamo vinto Vabbè ragazzi è già di più Sì Ma hai visto come era felice Sì Ma è una cosa assurda Cioè io alla fine mi so chiuso Non parlavo manco più Però cioè poi quando abbiamo vinto Ma il grozza è potentissimo Madonna il grozza è dio proprio E' il dio degli aelle il grozza Cioè sentolo come tira Te ne vai a Lemao? Un gioco che non è Sì devo andare Devo dire che sono lì a 11 Devo tirare un MDS Per lavorare Va bene allora Grazie ad Lemao per la partita Per la donazione E per il supporto Grazie mille Il nuovo Shroud Mamma mia Ragazzi vi faccio un altro S.O.S.O. A Lemao Ctb Mamma mia che partita Fatemi leggere un attimo i commenti Cioè papà Ma io non lo so Cioè ero tra il serio e il lol Il serio e il deconcentrato Qua mi hanno sentito tutto il palazzo Vabbè Cioè